ok si vede bene pare questo è un veloce mostriamo i nostri cuccioletti ah non date 43, non qua non arriva, l'abbiamo separata diciamo marionetta marionetta? no, le decidiamo tutti, aspetta ahia no, aspetta, aspetta ma puoi stare un corpone così è un'esperienza questo è che senti qui questi zolletti addomesticati che cazzo è male risposta per il pilastro mario sono tutti con un corpo così no no dai, ti pavamo a rio la parola via ho ti Domestria, profonda tre aspetta a cento d'altra traccia a salle del riuscire a stare che non siano ma questo questo è un spettacolo ok se questo è lentissimo da aspetta l'ultimo aspetta ok ma ciao a tutti e questo è un sforzo ecco per te per te con altri ok e poi ero mamma mia ma che cosa? adesso non mi ha dato il tempo ma che po- è questo? ma dov'è sci-fi? vai che vuoi un po' con le tue più chiude sonami ma sei un po' crissi no? la pe, muo- ma che cazzo è morto perchè si sente inizia ma che cazzo e beh è bellissimo si ma è il schioggio più grosso nooo non è fatto guarda quanti non hanno più in me e non riesco a ucciderli se no li raggruppiamoli come prima e li uccidi di un po' e li facciamo sono tutte a terra, guarda non vuoi morire non vuoi morire? 2x alzati! 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 ma come è già finito cazzo direi che questa è la fine nooo dai lo vedi tu che levanta sui primi senti ma non lo faccio la palla va non lo faccio la fermo e questo proprio perché voglio morire di nuovo per le morti ginocchio però perché c'è il tipo di messina file secondo me questa è una differenza assoluta verità l'alterativo si ma basta eh ma basta ho capito che vuole aspetta nel gli io blu il primo blu? cosa blu? come si può dare un'alternativa devi risparmi un po' questo giugno ma sono tutti l'alettrice andiamo a farli fuori andremo a riprendere l'attenziato ok 610 mila precisi io sono statunitore purtroppo stile dovresti abbassare ma vai ma vai vai vieni ma si prendi 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 guarda miseria che cura ho sfruttato tutto il bambino è qua guarda guarda sono il ho il ma è In effetti non me ne faccio niente, tra l'altro non me ne vedo un po' Per la destra Così io sono ho tutti i nani e i sciotti non ti vibra più vuoi togliere le batterie? vuoi? tu per te il solito ci vediamo da qua è molto gentile che cos'è? vediamo un cerchetto zì vediamo un cerchetto zì un cerchetto zì un cerchetto zì un cerchetto zì com'è un sacco di cose a costo su che bella se qua finalmente mente non finisce ma sono dai ma non so e' dato senza non si può a cazzo a cazzo potessi continuare a cambiare anche con gli stessi ma non mi conto ma non mi conto ma non mi conto ho deciso almeno carico sto veloce almeno se mi schifo il primo secondo vabbè senti devo prendere troppo da belta non volevo incollare e' giusta la verità peccato per me peccato perchè oh sono entrati mi servono le riduzioni ma come fa mettere dentro se non c'è se non c'è se non c'è se non c'è non c'è minchia ma cazzo cazzo dai 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 ma che fa dove vai via 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 tutto pieno di cazzo via tutto pieno di cazzo via 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 la via 4 48 ore Porca pittata Alla quando che fai che stiamo giocando? Non finisce più 5 5 6 8 8 9 10 10 11 12 12 12